che falla scorre è fondamentale sempre quindi devi utilizzare o il freno anteriore ma devi essere bravo e non te lo consiglio quindi se tu la lasci scorrere fino a linea dopo puoi frenare per cazzo le freno davanti dai che non sei caduto te sei solo appoggiato bella ampestata qua che fursi ragazzi bellissimo una meraviglia dunque raga oggi abbiamo fatto un botto di chilometri in carrozza frena 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 dai è giulio andiamo a andare a mano lì è un po' sassi ma è un pezzetto ok ma che manca il fango cos'è una passeggiata di saluto cos'è una passeggiata taglia il vostro cazzo il freno davanti il filare mi fa scorrere con il freno posteriore non ferrara o il freno davanti dai gas dai gas dai gas dai gas vai qui questo cazzo di freno davanti dai gas vai! Se navica a vista per chi ha fatto tanta acqua è sotto appieno di fango ok quindi cercate di mettere le ruote dove le metto io copiate quando entri dentro i canali profondi non te nemmai i piedi sulle pedane a giocare nel giro Gianfranco sta diventando sempre più bravo punta dritto e poi punta dentro al canale spingi sulla pedana, sulla pedana esterna, spingi a giocare 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 Grazie a tutti